via libera all'unanimità alla revoca della commissione speciale sui vaccini critiche dalle opposizioni che attaccano la maggioranza di aver perso tempo prezioso le azioni della giunta saranno giudicate da una commissione d'inchiesta approvata dal consiglio regionale una risoluzione per il sostegno degli istituti di istruzione tecnica superiore l'assemblea compatta vota il provvedimento e chiede che la giunta si faccia carico del loro supporto la commissione speciale sulla campagna vaccinale appartiene al passato il consiglio regionale ha votato all'unanimità la revoca di questo organismo che è stato sostituito da una commissione d'inchiesta dopo che non era mai entrata in funzione né trovato un presidente una situazione paradossale che è stata rimarcata sia da diego petrucci che da lisa montemagni sia il consigliere di fratelli d'italia che quello della lega hanno ricordato il tempo perso soprattutto in un momento nel quale avrebbe dovuto essere di supporto alle azioni della regione oggi in consiglio regionale è andata in scena una farsa nel senso il consiglio regionale ha revocato la commissione speciale sui vaccini che era stata istituita ben 90 giorni fa perché fino ad oggi soltanto col voto contrario di fratelli d'italia nacque questa commissione non sono riusciti ad eleggere il presidente e quindi è stata sposata da tutto il consiglio regionale la nostra proposta di fare una commissione d'inchiesta su la pandemia e sui vaccini perché perché noi riteniamo che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto è successo nei mesi scorsi in particolar modo sulla campagna vaccinale ma in generale sulla gestione della pandemia perché ahimè la regione toscana la gestione della campagna vaccinale della regione toscana è stata alla ribalta del palinzesto nazionale delle tv e dei giornali italiani perché ci sono stati personaggi molto noti che in toscana hanno avuto corsie preferenziali nell'accesso al vaccino in maniera appunto con scorciatoie non ben non molto trasparenti perché riteniamo che su tutto questo si debba far luce non vogliamo processare nessuno non vogliamo processare nemmeno l'assessore bezzini che ha avuto una gestione pessima della campagna vaccinale senza mai dare l'idea di avere la consapevolezza di quello che stesse succedendo intorno a sé dando numeri che venivano smentiti l'indomani da lui stesso non vogliamo processare nemmeno il presidente gianni che altrettanto si è smentito e contraddetto in continuazione durante questi mesi creando soltanto confusione caos e insicurezza nei confronti dei cittadini però vogliamo capire che cosa è successo noi quella proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione ma voglio dire di tutto il consiglio ai lavori che erano stati programmati dalla giunta sul piano vaccinale che non procedevano come i cittadini si aspettavano anzi non procedevano per niente sappiamo che siamo stati all'ordine del giorno e sulla cronaca nazionale per settimane con le vaccinazioni di tardo degli over 80 con chi si è vaccinato e non si doveva vaccinare non aveva diritto noi pensavamo di dare un contributo quindi la nostra proposta andava in quel senso è evidente che bisogna avere idee e bisogna metterci la faccia quando uno vuol dare un contributo quindi io ritengo che quella fosse da parte nostra una scelta estremamente responsabile poi però la maggioranza che aveva la maggioranza in quella commissione non ha deciso che non avrebbe votato l'ufficio di presidenza sappiamo che ci sono state anche scaramucce all'interno della maggioranza tra l'Italia Viva e il PD che sono note e quindi si è arenata praticamente subito e oggi che non è più il tempo della commissione speciale perché la campagna vaccinale ha proseguito e quindi molti dei nodi sono stati snodati secondo noi nemmeno benissimo siamo arrivati al punto che è diventata più opportuna una commissione d'inchiesta quindi convintamente abbiamo firmato la commissione d'inchiesta e procederemo con quella per far luce su tutto quello che non ha funzionato. Sul fronte della maggioranza Enrico Susteni del PD che non è riuscito a raggiungere il quorum come presidente della commissione speciale ha ricordato i vari passaggi evidenziando come l'opposizione avrebbe potuto chiedere questo organismo ben prima raccogliendo otto firme. Stefano Scaramelli di Italia Viva ha invece spostato l'attenzione sui risultati positivi della campagna di vaccinazione specialmente negli ultimi mesi. Infine Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle tirando le somme ha detto che lo strumento della commissione d'inchiesta è utile perché capire gli errori è una priorità. È accaduta una cosa un po' strana l'opposizione con otto firme può chiedere la commissione d'inchiesta. Aprile scorso su richiesta della Lega, quale noi abbiamo dato seguito, è stata istituita invece una commissione speciale per seguire l'andamento della campagna vaccinale. Il PD ha dato subito i membri che dovevano farne parte. Soltanto per ritardi legati all'opposizione la prima commissione è stata fatta solo l'insediamento all'inizio di maggio e lì non c'è stata l'accordo dell'opposizione sulla nomina dell'ufficio di presidenza. Non hanno votato l'ufficio di presidenza quindi generando poi l'obbligo di andare in via provvisoria di un'ulteriore nomina. Anche lì abbiamo riconvocato poi l'ufficio. Io sono stato nominato presidente provvisorio e anche lì ovviamente i candidati si sono astenuti dalla votazione e non c'è stata la possibilità. Quindi il tema è che c'è stata una contrapposizione fra Fratelli d'Italia e la Lega sulla scelta dello strumento sul quale evidentemente poi è venuto fuori questa contrapposizione che ha portato a nulla. Per quanto ci riguarda abbiamo sempre detto che ci teniamo, ci tenevamo e ci teniamo a seguire, a dare un contributo alla campagna vaccinale tant'è che noi già dal mese di marzo tutti giovedì audiamo l'assessore Bezzini e il direttore generale dell'assessorato per monitorare l'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale. Ci importano più risultati al di là degli strumenti. Ora è stata istituita sul richiesto dell'opposizione ma l'avrebbero potuto fare sempre perché con otto firme che sono ovviamente nella disponibilità dell'opposizione è stata istituita la commissione d'inchiesta, cosa che poteva essere fatto anche a aprile. Noi siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo 5-6 mesi fa rispetto alla campagna di vaccinazione, questo ci va riconosciuto. Un cambio di passo che c'è stato, attenzioni nuove che hanno rivolto una risposta importante, abbandonato il click day, dato risposta alle categorie che più di altre avevano bisogno. Sono state date risposte in tempi a questo momento certi, abbiamo riscalato i regolatori a livello nazionale, siamo arrivati a vaccinare per i primi ragazzi maturandi, si sono date risposte importanti, gli hub sono aumentati, le imprese hanno dato risposta e credo ci sia stato un coinvolgimento fattivo del mondo anche del volontariato e della medicina di base. Nel complesso la campagna di vaccinazione che va detta la verità non era iniziata bene, poi sta proseguendo bene e quindi a questo punto la commissione speciale, sulla quale anche noi avevamo condiviso il fatto che si potesse far nascere, è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio, quindi i risultati sono ottenuti. A questo punto da parte nostra il lavoro che potevamo fare è terminato, il lavoro è standardizzato, anzi deve continuare il lavoro dei medici, degli infermieri perché non è finito e con questo colgo l'occasione per ringraziarli. La mia valutazione è che le cose cambiano con il passare del tempo, quando una commissione speciale trova tutte queste difficoltà nella fase iniziale, già nell'elezione del Presidente dell'Ufficio di Presidenza, credo che avrebbe potuto fare ben poco. Per questo come Movimento 5 Stelle abbiamo capito che forse era meglio istituire e partecipare alla richiesta di una commissione di inchiesta, anche perché le difficoltà dell'inizio della campagna vaccinali sono state talmente evidenti e eclatanti che la Toscana è arrivata agli onori delle cronache nazionali. Qui si tratta di capire e stabilire dove sono stati gli errori nella catena di comando e soprattutto non tanto per accusare o puntare il dito contro qualcuno, ma per cercare di risolvere delle criticità che si potrebbero ripetere in una successiva ondata pandemica. Al fianco degli istituti di istruzione tecnica superiore, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione per sostenere gli ITS. Nell'atto si evidenzia la necessità di sostenere il consolidamento dell'offerta degli istituti per dare una risposta logica e consona ai bisogni formativi e rispondente alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte del tessuto imprenditoriale dei singoli territori. La risoluzione, come sottolineata da Cristina Giacchi del PD, impegna la Giunta a continuare nel sostegno del sistema regionale toscano degli istituti di specializzazione tecnica post-diploma, da considerarsi strumenti essenziali anche per garantire una proficua immissione nel mondo del lavoro. Il sistema della formazione tecnica superiore è un canale formativo di specializzazione mirata a facilitare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro e la riqualificazione dei adulti occupati e non occupati, trasferendo competenze di tipo tecnico-professionale di medio e alto livello, riferite a specifiche aree economiche e professionali. Sulla stessa lunghezza d'onda, la vicepresidente della Commissione Cultura, Luciana Bartolini della Lega, che si è soffermata sulla collaborazione tra mondo della scuola e distretti produttivi, invitando a riflettere su quanto sia importante il percorso di orientamento per i giovani. Questa risoluzione nasce da un lavoro lungo fatto dalla Quinta Commissione di un percorso di audizione di tutti i soggetti interessati e di ascolto delle istanze dei territori. La formazione professionale terziaria, cosiddetta, cioè di livello superiore paragonabile all'università, ha avuto un forte impulso in questi anni e adesso è in corso una riforma nazionale della legge istitutiva degli ITS e anche un forte incremento dell'investimento in questo settore di formazione che nasce dal PNRR. Quindi con la nostra risoluzione, anch'essa approvata all'unanimità, abbiamo chiesto all'Aula di sollecitare la Giunta nel monitorare l'avanzamento della riforma e nel dare ascolto ai territori toscani, a tutte le province, ai settori industriali, perché si dia risposta al bisogno di formazione professionale e di specializzazione professionale con i profili che interessano poi alle imprese che debbono assumere i ragazzi formati. Questa risposta non nasce necessariamente da un aumento delle fondazioni che sono lo strumento giuridico che è adoperato per realizzare questi percorsi formativi, ma magari da una loro migliore articolazione e da un aumento dei corsi senza aumento delle fondazioni. Questo starà al Governo e alla Regione deciderlo. Noi chiediamo che questo settore sia tributario di forte attenzione perché ci sembra strategico ai buoni risultati ottenuti finora senza altro da sostenere. Gli ITS sono gli istituti tecnici superiori a cui si accede con un diploma, quindi sono rivolti a ragazzi diplomati fino a 29 anni. Sono istituti particolari perché sono specifici delle varie filiere, tipo la filiera dell'oro, la filiera della pelletteria, dell'agroalimentare, eccetera. In Toscana, così come in tutta Italia, sono gestiti da fondazioni, fondazioni a cui fanno parte comuni, enti locali, camere di commercio, privati anche, che gestiscono questi corsi. C'è in questo momento, e alla Camera, una legge per cambiare un po' qualcosa perché si è visto che in Italia sono poco frequentati. Per farvi un esempio, in Germania sono un milione di ragazzi che li seguono, in Italia 20.000. Quindi si deve cercare in ogni modo di farli conoscere. Probabilmente quello che manca è anche un orientamento per i ragazzi delle scuole superiori per far conoscere, diciamo, l'esistenza di questi istituti dove i ragazzi fanno scuola-lavoro, quindi gli insegnanti sono per la maggior parte del mondo produttivo, poi ci sono anche insegnanti dell'università, eccetera, e poi fanno degli stage nelle aziende del territorio. Quindi sono molto importanti proprio perché, diciamo, che chi esce da lì all'80-85% trova lavoro. Dalle forze politiche di maggioranza e opposizione è stata evidenziata l'importanza di queste strutture. Stefano Scaramelli di Italia Viva ha messo in risalto la capacità di dare lavoro degli ITS, mentre Irene Galletti del Movimento 5 Stelle si è soffermata sulla necessità di monitorare la qualità dell'insegnamento perché il mercato è in continua evoluzione e la richiesta di competenze varia rapidamente. Gli ITS sono degli istituti di formazione importante, di istruzione secondaria superiore che consentono ai ragazzi, una volta usciti dalle scuole superiori, di avere un percorso formativo che consente loro di avere anche una specializzazione per entrare subito nel mercato del lavoro, per arrivarci in maniera professionalizzata, per fare anche dei percorsi di crescita personali. Esistono sette fondazioni in Toscana, tante delle risorse comunitarie che verranno investite nei prossimi anni, noi chiediamo un potenziamento di questo sistema che ha funzionato, che dà delle percentuali di occupazioni altissime, che consente comunque ai ragazzi di continuare a formarsi, di crescere, quindi di avere un processo di cultura costante ma nello stesso tempo interazione pubblico e privato, imprese e regione per cercare, mediante questi processi di formazione, di consentire di avere dei percorsi di inserimento lavorativi mirati in base ai settori produttivi che necessitano di formazioni professionali, quindi al nostro avviso è un meccanismo che va incentivato non tanto in termini di numero di fondazioni quanto come numero di attività e di settori che possono appunto dare un percorso formativo importante ai ragazzi. È stato fatto un dibattito anche all'interno della Commissione Europa per quanto riguarda gli istituti tecnici, l'ITS e la formazione professionale. Questa formazione è sicuramente fondamentale ed è necessario improntarla nel modo migliore. Migliore significa che è fondamentale, sì, la professionalizzazione è specifica per un certo mercato del lavoro che è in continua evoluzione, va ricordato, ma è necessario anche che all'interno di questa formazione le soft skills, quindi quelle capacità trasversali che spesso anche la scuola ordinaria trascura un po' all'interno dei suoi programmi vengano sviluppate perché saranno fondamentali anche all'interno di un mercato del lavoro che come abbiamo detto è in continua evoluzione ed è necessario anche monitorare la qualità dell'insegnamento che viene appunto esercitato per tramite del lavoro delle fondazioni, quindi è necessario monitorare dal punto di vista economico come vengono spesi queste risorse e la qualità della formazione che viene fatta. Questo è fondamentale non soltanto adesso ma anche per il futuro per modulare meglio l'offerta formativa che viene data.